Maida, come vi stiate preparando per il derby? Questa è una partita che si prepara da sola. Noi, come sempre, mettiamo il massimo dell'impegno e sappiamo che non sarà facile, però sappiamo anche di essere una buona squadra e andremo lì per giocarcela, come sempre. Ripartite dall'ottima reazione con rimonta sul Francavilla, da questo riscatto del Ceravo, allora però bisogna cambiare marcia anche in trasferta. Sì, come sempre, come anche l'anno scorso abbiamo sofferto un po' all'inizio, però ci sta, ci sono tanti compagni nuovi e quindi un po' all'inizio paghiamo la mancanza di conoscenza tra di noi, quindi adesso piano piano supereremo anche questo. Penso che abbiamo fatto una gran vittoria contro il Francavilla perché è una squadra costruita per fare bene. Prendiamo quello che di positivo abbiamo fatto e aspettiamo domenica. Regina, ottima squadra, avversario durissimo, derby d'alta quota, unica squadra del Girone ancora imbattuta. Sarà un derby obiettivamente diverso rispetto a quello dell'anno scorso e a quelli degli ultimi? Sì, vabbè, ma i derby sappiamo benissimo che sono partite a parte, quindi anche l'anno scorso loro stavano vivendo un momento di entusiasmo e non era per nulla facile, come non lo sarà quest'anno. Penso che sarà una partita durissima. Loro sono una squadra forte, costruita per lottare per la vittoria del campionato. Abbiamo grande rispetto e andremo lì per giocarcela. Partita durissima, peraltro, Mattia, giocherete contro 11 ragazzi in campo, contro uno stadio pieno, 15 mila persone. Sì, sì, per noi calciatori questo è uno stimolo importantissimo, come se non lo sarà per loro. Sappiamo benissimo l'importanza di questa partita e del derby. Reggio è una gran piazza, quindi la risposta del pubblico sicuro ci sarà. Io spero soltanto di portare a casa punti, di fare bene e di andare lì per vincere. Poi la partita sappiamo tutti benissimo che sarà una partita difficile, ma nessuna partita in questo girone è facile. Senti, contro la Regina, ancora di più rispetto alle altre partite, servirà quella cattiveria che il mister vuole da voi, no? Sì, come in ogni partita. Magari, ripeto, all'inizio abbiamo un po' sofferto la mancanza di conoscenza tra di noi. All'inizio non è mai semplice. Poi adesso stiamo lavorando sotto questo punto di vista perché è normale che un po' qualcosa ci sia mancato. È la realtà dei fatti. Perché quando non vinci, quando non porti a casa i punti, manca qualcosa. Ci stiamo lavorando, ci alleniamo ogni giorno per questo. Quindi la cattiveria di sicuro non mancherà. La cattiveria di tutto il gruppo e la cattiveria soprattutto di Mattia Maida, no? Insomma, su di te si parla tantissimo, si dice che naturalmente i mezzi tecnici superiori, però qualche volta magari non riesce a dimostrare tutta la... Sì, sì, ci sta. Quando magari non si vince, siamo un po' in difficoltà, ma capita a tutti. Come diceva sempre Allegri, i campionati non si vincono né a settembre né a ottobre. Ronaldo è il giocatore più forte del mondo. L'anno scorso ha iniziato a fare gol dopo la sesta giornata. Quindi ogni campionato, ogni partita, ogni inizio campionato è a sé. Magari l'anno scorso ero più pronto fisicamente perché ho avuto un'estate molto più semplice di quella che ho passato. Perché l'anno scorso ho avuto un sacco di problemi alla fine. Ho sempre giocato e continuato a giocare, ma non dicendo niente all'esterno perché era giusto così. Però ci sono stati un sacco di problemi quest'estate che ho risolto grazie a Dio e non era semplice. Quindi ripeto, adesso piano piano prenderò sempre più forma e darò sempre di più. E sei pronto a prenderti sulle spalle la squadra? Sì, ma non sono da solo, questo è l'importante. Siamo in undici, più quelli che vengono in panchina. Quindi è la squadra quella che conta, non è né Mattia Maeta né nessun altro, secondo me. Non può essere decisivo un derby all'anno una giornata, però anche psicologicamente... Sì, sì, è vero, è una partita importante, importantissima. Non decide nulla perché ancora siamo a ottobre, quello è vero. Però mentalmente ci potrebbe dare una grossa mano. Senti, chi toglieresti alla Regina? Un giocatore su tutti. C'è una gran bella scelta, loro sono una grande squadra. Il primo che mi viene in mente è Reginaldo, grande giocatore. Ci ho giocato già due anni fa contro quando stavo alla Paganese. Quindi è l'uomo più pericoloso, secondo me. Anche Corralza sta facendo molto bene. Ma è una squadra fortissima la loro, come è la nostra. Quindi sarà una partita bellissima da vedere. Senti, da fuori sembrerebbe un confronto equilibrato tra due squadre entrambe forti. Regina forse più solita e robusta al centrocampo, senza non la togliere al Catanzaro. Ovviamente è Catanzaro più agile e imprevedibile avanti. Condividi? Sono due moduli, due allenatori diversi che danno un'impronta alla squadra diversa, differente. Quindi loro hanno determinate caratteristiche e noi ne abbiamo altre. Però la cosa più importante è che siamo due squadre forti, quindi ce la giocheremo alla grande. Può essere magari qualche guizzo del singolo, no? Sì, sì, anche gli episodi. Vabbè, come in ogni partita, in Serie C è quello che fa la differenza. L'episodio, il calcio di punizione, il calcio d'angolo, qualsiasi azione può diventare decisiva. Ne hai giocati tanti, ormai nessuna più emozione particolare da ex? No, vabbè, è sempre bello andare a giocare a Reggio. Poi quando ci sono tante persone allo stadio è un'emozione unica per noi calciatori. Noi viviamo per quello. Quindi per me è sempre bello. Io lì sono cresciuto, ho passato tanti anni della mia vita e ringrazierò sempre quello che è stata la regina. Adesso è una società nuova, non conosco, però è sempre bello andare a giocare a Reggio. È sempre un derby, una partita difficilissima tra due squadre forti. Non è che c'è il rischio che prevalga la paura di perdere? No, ma non penso, perché ripeto, siamo ancora a ottobre, quindi ci sarà sicuramente la voglia di dominare la partita. Quindi secondo me sarà una bella partita, sarà una partita aperta. Grazie a tutti. Grazie, ragazzi. Buonasera.